Oggi parliamo di serie animate. Utilizzo questo termine per differenziarle da quelli che sono i classici programmi di intrattenimento per bambini, perché voglio parlare ovviamente di cartoni animati che, per temi trattati, stile e cose varie, sono destinate a un pubblico più adulto. Quando parlo di questo tema devo sempre fare un paio di premesse. Innanzitutto devo specificare che io sono cresciuto con la comicità dei Griffin, quella delle vecchie stagioni non quella delle ultime più recenti in cui il totale nonsense regna sovrano. In secondo luogo devo fare una distinzione tra quelli che secondo me sono i due gruppi principali di serie animate. Da un lato troviamo i programmi di intrattenimento e critica sociale come potrebbero essere quelli di Groening, i Simpsons, Futurama, eccetera, o i Griffin che già ho citato. Dall'altro lato troviamo invece programmi che presentano una macro trama, quindi serie che vanno viste con gli episodi in ordine per capirne in senso definitivo e che magari vogliono anche presentare qualche tipo di morale. Potrei riferirmi in questo caso a Bojack Horseman, a Final Space, a Disincanto che pur sempre presenta la stessa critica sociale di Groening, però c'ha anche una trama più importante. Ho fatto tutto un discorso bello, impostato e poi ho detto c'ha anche, che brutta roba che va detto. Senza parlare troppo della prima categoria su cui sinceramente non trovo più di tanto da dire, mi concentrerei su questo secondo gruppo di serie animate. Di Final Space parlai qui sul canale già un po' di tempo fa. Come già dissi al tempo, mi piacciono i disegni, la trama di base, i personaggi, è tutto simpatico come impostazione. Devo dire però che le nuove stagioni sono un po' banalotte, ripetitive più che altro. Un'altra serie di cui ho già parlato qui sul canale è Disincanto, che mi è sempre piaciuta un tot. Anche le ultime stagioni presentano svolte di trama convincenti e personaggi intrecciati in modo molto interessante, non vedo l'ora di vedere come andrà avanti nelle prossime stagioni. Rick e Morti è senz'altro geniale e fin dalle prime stagioni mi aveva particolarmente colpito la capacità di questa serie di creare un mindfuck gigantesco e irreversibile all'interno del cervello dello spettatore in ogni singolo episodio. Il problema attuale della serie, forse a parte l'intenzia disarmante con cui vengono prodotti gli episodi, le stagioni, perché rispetto a tantissime altre serie nel mercato attuale che producono una stagione all'anno, che forse è anche troppo, Rick e Morti fa tipo mezza stagione ogni anno e mezzo, ogni due anni, quindi esce un po' poca roba, però anche lì non sono qui per criticare quello. Il problema, dicevo, grosso secondo me delle stagioni più recenti, degli episodi attuali, è che mentre a livello visivo, a livello di effetti speciali, di disegno eccetera, siamo ovviamente molto più avanti rispetto alle prime stagioni, a livello di trama non portano più niente di nuovo, niente di rinnovato e posso capire che con delle premesse come quelle che ci sono alla base di Rick e Morti non sia particolarmente facile inventarsi, reinventare la serie in ogni episodio, perché quello era quello che facevano agli inizi e ci sta, cioè ci sta. Un capitolo totalmente a parte è quello di Bojack Horseman, che sicuramente è una serie molto speciale, anche di questa già parlare sul canale in passato. Citando un meme che è particolarmente famoso su Instagram, potrei dire che questa serie fa ridere ma fa anche riflettere. Ecco, c'è da dire che quando si parla di Bojack, le risate, se ci sono, non sono risate sguagliate, risate particolarmente positive. Se si ride, si ride a denti stretti, si ride su cose tragiche della vita comunque, quindi non è una risata facile, è una risata scontata. Di cosa parla Bojack Horseman? Beh, di base parla di Hollywood, parla dello star system e di un mondo che al giorno d'oggi sotto certi aspetti è particolarmente malato, parla anche di droghe, di dipendenze, di alcolismo, parla di depressione, parla di malattia, di morte, parla anche di amore, parla di tutto fondamentalmente, parla di un sacco di cose della vita. Quante volte ho detto parla in questi ultimi 20 secondi? Però non lo fa mai in modo scontato, lo fa in un modo veramente speciale e con degli espedienti visivi, oltre che narrativi, stupendi, non so come altro descriverli. La sconfinata capacità immaginativa degli autori di Bojack Horseman si riflette anche nell'altro loro capolavoro attuale, che è Undone. Undone è un'altra serie animata prodotta per Amazon Prime Video e se qualcuno mi chiedesse qual è il tentativo più riuscito del mettere su schermo i frutti dell'immaginazione umana risponderei proprio Andone. So che non è proprio la classica domanda che uno ti farebbe alla fermata dell'autobus, ti ferma e ti dice mi scusi ma secondo lei qual è il tentativo più riuscito del mettere su schermo? No, però insomma ho voluto renderla così, spero di essermi spiegato. Prima di concludere il video vi parlerei di un'altra serie recentissima che secondo me è degna di nota perché è veramente diversa da tutte le altre del suo genere, creata per Netflix dal produttore di Adventure Time, dal creatore di Adventure Time. Il concept stravagante alla base di questa serie è il seguente, lui ha intervistato ospiti diversi per ogni puntata creando un vero e proprio podcast e poi ci ha disegnato sopra gli episodi della serie animata, quindi il protagonista di cui adesso mi sfugge il nome è un ragazzo che ha un podcast e per questo podcast viaggia di pianeta in pianeta con una sorta di simulatore e in ogni episodio intervista un personaggio diverso. La voce di questo personaggio diverso per ogni puntata è la registrazione che il creatore ha fatto intervistando esperti reali e quindi ogni volta mentre succedono un sacco di cose su questi pianeti, ogni volta c'è un mondo diverso eccetera, loro in realtà parlano di argomenti seri, argomenti molto interessanti, cose di cui normalmente in un cartone animato non si parlerebbe. E niente, ve la consiglio caldamente se siete amanti del genere perché è davvero allucinante, io non saprei con che altro termine descriverla se non allucinante, è un trip bestiale questa serie e se l'avete già vista sapete di cosa parlo. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video e vi ho parlato un po' delle serie animate che ho visto di recente, delle mie preferite in generale, vi chiedo a questo punto qual è la vostra, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Siccome i momenti di intro e outro dei video sono sempre quelli un po' più cringe da registrare perché non so mai esattamente come comportarmi, farò la cosa più sensata possibile, ovvero mi alzerò e me ne andrò. A domenica prossima. Grazie a tutti.